Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 4 chilometri e 400 metri per collegare il viadotto autostradale alla strada per Castel Nuovo Scrivia passando sopra lo Scrivia grazie al ponte appositamente costruito e finire sulla provinciale 10 per Voghera, in regione Villoria È la nuova tangenziale di Tortona, un'opera costata ai contribuenti 44 milioni di euro che oggi, dopo numerosi rinvii, è stata finalmente inaugurata Presenti durante il taglio del nastro le autorità ed il vescovo Vittorio Viola che ha benedetto l'opera tanto attesa Nonostante il termine lavori fosse fissato per maggio 2014 l'inaugurazione della strada era stata rimandata più volte i ritardi dei lavori causati tra le varie ragioni dall'alluvione dello scorso anno dal mancato collaudo definitivo delle opere connesse alla tangenziale e da una vicenda giudiziaria in cui la Procura della Repubblica di Torino aveva aperto un fascicolo sull'appalto dei lavori per turbativa d'asta hanno costretto l'amministrazione a modificare più volte la data dell'inaugurazione inizialmente prevista per quest'estate era stata spostata a settembre e poi a novembre una vicenda ricca di polemiche anche per i costi che la regione SCR e la società appaltante dovrebbero ancora sostenere 3 milioni di euro per la costruzione di una rotatoria nei pressi del supermercato Conforama necessaria per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti che uscendo dal casello dovranno recarsi a sale ed un importo top secret per la realizzazione dei futuri innesti non sappiamo se, come disse l'allora sindaco di Tortona Massimo Berutti la tangenziale permetterà di cambiare le sorti di sviluppo della città è certo però che la nuova tangenziale consentirà di smantire il traffico effettivamente molto intenso che ogni giorno attraversa la circonvalazione nord ed est di Tortona e favorirà l'accesso all'autostrada da parte di autocarri ed automezzi Grazie a tutti